Gabice, Cattoliche e Gradara, sempre più collegate da Adribus, che intensifica la presenza del trasporto pubblico, specialmente in orario serale, grazie a un bando della Regione Marche, permettendo così di raggiungere ogni 30 minuti i tre comuni ad un prezzo calmierato. Come sappiamo è sempre più importante cercare delle soluzioni alternative per la mobilità. Quest'anno, grazie al bando della Regione Marche sul potenziamento del trasporto pubblico locale, il Comune di Gradara, in collaborazione con Adribus, ha realizzato un'intensificazione del servizio di trasporto tra Gabice, Cattolica e Gradara, su due direttive, l'autobus 8081 e 130131. In questo modo ogni mezz'ora, soprattutto per la parte serale, quando in estate si concentrano gli arrivi e gli eventi anche qui di Gradara, ogni mezz'ora sarà possibile, con appena 1,60 euro da Cattolica, da Gabice, arrivare a Gradara e con facilità anche ritornare lungo la costa. Ricordo anche che il 130-131 è facilmente collegabile con il 125 che arriva da Riccione. È un progetto biennale, quindi anche il prossimo anno si realizzerà nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì, quindi abbiamo scelto apposta di non realizzarlo durante il weekend, dove abbiamo già un'affluenza importante, per cercare di invogliare le persone a raggiungere Gradara anche in mezzo alla settimana, dove abbiamo comunque degli eventi molto interessanti. Quindi Gradara crede molto nel sostenere questa viabilità alternativa, soprattutto lasciamo i mezzi propri a casa, usiamo il trasporto pubblico e vedete che sia economico ma anche divertente. Ci vediamo a Gradara in bus.